Quest'anno inizieremo il 24 novembre, al mattino ci sarà l'inaugurazione del posto occupato organizzata dalla biblioteca oliveriana in ricordo di tutte le vittime di violenza sulle donne, in ricordo di tutte le vittime appunto. Il pomeriggio abbiamo organizzato la presentazione del libro Cuore a Kabul, poesie per l'Afghanistan, con il curatore del libro Pietro Fratta e ci saranno alcuni interventi, in particolare quello di Susanna Camusso che ha curato anche la prefazione del libro e Luca Radaelli, infermiere di Emergency che è stato diversi anni proprio in Afghanistan. Abbiamo voluto fortemente l'intervento di Emergency perché il ricavato del libro sarà devoluto ad Emergency e l'obiettivo di questa iniziativa è proprio quella di concentrare nuovamente l'attenzione sulla condizione delle donne vittime di violenza purtroppo in Afghanistan e in generale la condizione delle donne appunto in questo paese. Il giorno dopo, il 25 di novembre, avremo il consiglio monotematico sulla violenza sulle donne che è ormai un appuntamento fisso per noi ed è molto importante. In particolare ci concentreremo quest'anno sulla narrazione dei femminicidi, quindi su tutta la parte della comunicazione. Ci sarà la giornalista Luisa Betti Dacli che prima del consiglio farà una piccola formazione proprio ai giornalisti locali e durante il consiglio oltre all'intervento della giornalista ci sarà anche l'associazione percorso donna con Laura Martufi e Francesca Santorelli che faranno un focus, un'analisi proprio specifica sul catcalling e verrà presentata anche una ricerca di Laura Morazzini che è una segnestra di ricerca dell'Università di Bologna proprio specifica sul catcalling. Quindi quest'anno abbiamo voluto concentrare il consiglio comunale sulla parte della comunicazione sia dei media e sia proprio anche la comunicazione verbale quindi le molestie di comunicazione verbale approfondendo il tema del catcalling. Per noi è ovviamente sempre molto importante concentrare l'attenzione su questo tema che purtroppo, come spesso ripeto, non tende a diminuire e per noi è fondamentale continuare a fare sensibilizzazione e promozione di tutte le attività a contrasto della violenza sulle donne.